Le fiamme hanno avvolto questa mattina intorno alle 11 il tetto di una casa a tre piani situata in via Madonna d'Europa a Crote di Strambino, pronto all'intervento dei vigili del fuoco di Brea e Castellamonte che dopo un paio d'ore di lavoro sono riusciti a spegnere l'incendio. Fortunatamente nessuno dei residenti è rimasto ferito o intossicato, ingenti però i danni al tetto, in gran parte distrutto, al sottotetto e alle stanze dell'ultimo piano. Sul posto sono intervenuti anche il carro fiamma, l'autoscala di Biella e i carabinieri di Strambino, in via di accertamento le cause del rogo. Sottotitoli Sottotitoli Grazie